Il mondo dello spettacolo è in subuglio dopo la sorprendente rivelazione del famoso ballerino Stefano De Martino, che ha deciso di infrangere il silenzio riguardo a alcuni segreti della sua ex moglie, la celebre showgirl Belen Rodriguez. In un'intervista esclusiva rilasciata a una nota a rivista di Gossip, De Martino ha fatto affermazioni audaci riguardanti presunte relazioni amorose di Belen con vari personaggi noti del mondo dello spettacolo. Secondo le sue dichiarazioni, la Rodriguez avrebbe avuto incontri romantici con diversi uomini famosi, tra cui un noto calciatore, un famoso cantante internazionale e un rinomato produttore cinematografico. Queste rivelazioni hanno scatenato un vero e proprio putiferio mediatico, con i giornali che hanno iniziato a indagare sulla veridicità di queste affermazioni. Tuttavia, alcuni fan di Belen hanno accolto le parole di De Martino con una certa dose di scetticismo, sostenendo che potrebbero trattarsi di pettegolezzi o tentativi di attirare l'attenzione dei media. Al momento, Belen Rodriguez non ha ancora risposto alle dichiarazioni del suo ex marito. La showgirl ha sempre mantenuto una riservatezza riguardo alla sua vita privata, e questa situazione non sembra essere un'eccezione. Sarà interessante vedere come si svilupperà questa storia e se ci saranno eventuali conferme o smentite da parte di Belen o dei presunti uomini coinvolti nelle voci. Nel frattempo, il mondo dello spettacolo rimane in fermento, con tutti gli occhi puntati sulla famosa showgirl e sulle sue misteriose relazioni passate. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti su questo avvincente capitolo di Gossip.